Terza di Champions anche per la Contrada Flora che come esordiente al Derby Sports ha voluto provare un po' tutto. Sconfitta la prima, pareggia la seconda e è arrivata la vittoria con una pioggia di gol oggi. 13 a 1 contro la super esordiente Milano, proprio alla sua prima partita, ci racconta come è andata Boniolo Davide, autore oggi di 6 gol e migliore in campo per la sua squadra. È stata una grandissima partita e tutta la settimana che ci alleniamo aspettiamo lo stagione, eravamo stracomiti di fare bene e grazie anche al portiere Mattia Colombo che è stato fondamentale nella partita di oggi. Cento, Roberto, tutti bravi sono stati, quindi abbiamo raggiunto il massimo che potevamo dare. Quindi avete provato tutti i vari risultati in queste prime tre partite, settimana prossima si gioca contro il Panacea che sicuramente è uno dei mostri del vostro girone, ambisce ad essere prima in classifica. Qual è l'aspettativa per quella partita? Sicuramente sarà una partita abbastanza difficile ma ci alleneremo tutta settimana per battere. Perfetto, allora staremo a vedere il risultato della Contrada Flora su cosa si essesterà dopo tutti i risultati fatti fino ad oggi contro la prima in classifica Panacea. Ciao!